Allora, come cambierà il mondo, il futuro, l'economia dopo la pandemia da coronavirus? Che cosa ci dobbiamo aspettare e cosa dobbiamo fare subito per fare in modo che le cose possono cambiare in maniera drastica per noi, ok? Quindi andiamo a vedere veramente che cosa ci sta aspettando, cosa vedremo nei prossimi mesi e che cosa dobbiamo fare subito. Lo capiamo, molto importante, molto importante in questo video. Ciao, allora, io sono Massimiliano Cerra e sono colui che ha portato in Italia quello che è il concetto di pensione, di pensionamento raggiunto in maniera indipendente, in maniera autofinanziata. Ed aver portato in Italia quelli che sono i programmi specializzati che aiutano le persone, dipendenti, libri, professionisti e imprenditori, a raggiungere questo risultato in maniera certa e precalcolata. Quindi arrivare al pensionamento anticipato e con molti più soldi in maniera autofinanziata, quindi finanziato da solo. Questo video è molto importante proprio in riferimento a questo, ok? Ti faccio una premessa. Guarda questo video perché ti aprirà un attimino le porte per quello che ci aspetta, se devi intraprendere delle attività, se devi mettere a posto un'attività che già hai, se stai pensando di come organizzare il futuro. Sarà molto importante comprenderlo. Allora, come andrà a finire il discorso della pandemia? Come cambia l'economia adesso? Come cambierà in futuro? Allora, questo non è tanto un parere, ma è un dato di fatto, ok? Il dato di fatto in questo momento è che se tutti riflettiamo, abbiamo visto come un piccolo virus, come l'influenza, dura da decine, decine, decine di anni e non è mai stato sconfitto. Ogni anno è una piccola malattia dove prendi la tua tachipirina, ma ogni anno non viene sconfitta, non è mai stato sconfitto questo virus. Anzi, addirittura ogni anno ci sono le varianti, ok? La cinese, la russa, la spagnola, alcune varianti che sono anche un pochino più forti, un pochino più deboli. Allora, io non sono un medico, non sono uno scienziato, ma è facile capire che ogni, abbiamo già capito che la malattia è un po' questa, grave, ma non hanno sconfitto quella che era molto più semplice in decine e decine di anni, figuriamoci che cosa può venire dopo. Per cui dobbiamo prepararci a questo, ci saranno nuove varianti, ci saranno nuove chiusure, ok? Ci saranno nuove chiusure, prepariamoci al fatto che non è finito niente, inevitabilmente per ovviare, adesso in questo momento sto girando il video che siamo nel periodo estivo, quindi le persone dicono quando è finito il virus, no, è solamente il periodo, la fascia estiva, dove anche l'influenza nella fascia estiva non prende quasi a nessuno, ok? Mentre quando arriva la parte invernale, i mesi invernali, l'influenza torna, ok? E inevitabilmente tornerà il virus. Ci saranno nuove varianti e gli stati dovranno creare nuove limitazioni, nuove chiusure, nuovi lockdown. Come impatterà questo? Devi stare molto attento, l'impatto che avrà devi prendere in considerazione di ricollocare bene la tua vita, ricollocare bene la tua vita economica e ti dico una cosa molto importante, se non lo hai fatto prima, la soluzione numero uno al mondo per ovviare tutto questo è crearti il tuo processo di autofinanziamento. Tu devi essere autofinanziato, devi avere tu il fondo che sosterrà la tua vita, che sosterrà la tua famiglia e ci vuole poco a creare un fondo, non sto parlando, guarda come noi creiamo il nostro fondo, che è un fondo a crescita esponenziale, raggiungiamo il pensionamento sempre nel giro di non 45 anni di lavoro, ma nel giro di un termine molto molto più breve e devi cercare di raggiungere un processo di autofinanziamento che ti porta in pochi anni a raggiungere il tuo pensionamento in maniera autofinanziata, ma soprattutto a raggiungere la struttura finanziaria che ti possa ovviare, che possa ovviare a qualsiasi problematica del futuro, pandemie, continuazione delle pandemie, problematiche di ogni genere, aumento delle tasse, crisi economiche, crisi di governo, quindi tutto quello che può capitare nel corso del tempo se tu sei autofinanziato saranno situazioni che ti porteranno sicuramente un benessere, non dovrai andare a cercare incentivi da qualcuno, ti chiudono l'attività, tu potrai andare a fruire del tuo fondo e non di un fondo all'Inps dove a tutti gli effetti non potrai mettere mano, ti daranno molto di meno di quello che hai versato, solamente per un breve periodo poi te lo toglieranno, ok? Il tuo fondo sarà tuo per tutta la vita. Allora, è scientificamente provato in uno studio specifico che ho letto, tra l'altro uno studio che ho visto in America su dei libri specializzati, ma è uno studio che ci vuole poco a farlo, le persone che sopravviveranno a qualsiasi tipo di evento in maniera futuro sono le persone che hanno autofinanziato con un fondo proprio la propria vita, quindi lavorano, hanno la loro attività, ma in parallelo creano un proprio fondo di autofinanziamento che possa sostenere il proprio tenore di vita, la propria pensione in frutto di maniera autofinanziata, quindi quando vogliono loro, in maniera anticipata e con più soldi e ci vuole poco a far meglio dell'Inps, ma soprattutto possa tenere banco durante situazioni di questo genere, ok? Situazioni di questo genere come situazioni improvvise, situazioni che incontrollabili o crisi di qualsiasi genere. Dovrai arrivare al punto di andare a lavorare perché ti piace e non perché sei costretto e quando ci sono ad esempio grandi problematiche, vai a vedere anche un film, ok? Quando ci sono grandi problematiche a livello di futuro, di incertezza futura o possidenti di guerra di un certo tipo, le persone che cosa fanno? C'era chi faceva il rifugio anti-atomico, ti ricordi? Le persone svuotate, guarda durante la pandemia all'inizio del 2020, ok? Le persone cosa fanno? Andavi al supermercato e trovavi gli scaffali svuotati, perché nella mentalità delle persone che cosa c'è? Ecco, creiamo un fondo nel caso in cui chiudano tutto, nel caso in cui ci sono delle problematiche, che mi possa sostenere nel corso del tempo. Esattamente questo, ok? Chiunque è autofinanziato nel corso del tempo, ma all'autofinanziamento non è mettere da parte qualche cosina, ma fa parte di un programma di autofinanziamento, sarà la persona che vivrà bene in ogni contesto e quando sei autofinanziato dal tuo fondo, con un fondo specifico dedicato a questo, inevitabilmente a tutti gli effetti potrai andare in conto a qualsiasi tipo di evento, anche dalla perdita del lavoro o problemi di salute, che a tutti gli effetti non avrai nessun tipo di contraccolpo per te e per la tua famiglia. Quindi a tutti gli effetti autofinanziati, nella descrizione sul mio sito, sul mio portale trovi un servizio gratuito che ho messo a disposizione con dei ragazzi che ti aiutano a capire come autofinanziare la propria vita e ti fanno un piano scritto e precalcolato per capire in quanto tempo raggiungi ad esempio il pensionamento in maniera autofinanziata, quindi la struttura economica capace di alimentare la tua vita, di finanziare la tua vita e quanto tempo potrai vivere di rendita con questo, il tuo rifugio antiatomico, ok? Quindi approfittare e fallo subito perché chiunque avrà questo, la propria impalcatura finanziaria autofinanziata saranno gli unici che potranno sopravvivere a qualsiasi tipo di evento. In caso contrario preparati perché i tempi che ci aspettano non saranno molto rosei e non solo non saranno molto rosei ma tutto questo impatterà in maniera possente nell'economia presente e con uno strascico economico nel futuro di cui non si parla molto adesso ma se ne parlerà molto presto perché adesso a tutti gli effetti quando ci saranno nuovi lockdown, ci saranno nuove problematiche e ci saranno perché ci saranno, ok? Perché ci saranno nuove varianti. A tutti gli effetti lo Stato non rimanderà più le tasse, semmai lascerà alcuni negozi aperti ma quando i negozi saranno aperti non ci andrà nessuno, ok? Mi ricordo ultimamente quando andai in un parco di intrattenimento per bambini a tutti gli effetti il proprietario mi disse guarda noi siamo all'interno di una zona arancione quindi mezza chiusa quindi a me mi hanno fatto tenere aperto ma voi non potete venire perché voi non potreste uscire per venire in parchi del genere per cui io non avrò nessun tipo di incentivo ma non ho neanche un guadagno perché le persone non possono venire, ok? Quindi si creerà un paradosso del genere dove gli incentivi non ne vedrai più, le tasse le dovrai pagare lo stesso, le spese le dovrai pagare lo stesso e inevitabilmente saranno affari tuoi e se non avrai un processo di autofinanziamento tale da poter ovviare a un processo di crisi economica che comunque avrà uno stracico molto lungo saranno guai. Esiste una strada sola nella vita per volare con le proprie ali per sempre e non essere soggetto a tutte queste varianti esterne che possono condizionare la tua vita, fai in modo che la tua vita non sia più condizionata da varianti esterne ma sia decisa e impostata da te. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Massimiliano Cerda.